Alla vicenda di Agostino Pantano, l'ex giornalista di Calabria Ora, che rischia otto anni di reclusione, si aggiunge la difesa di tre parlamentari del Partito Democratico, tutti appartenenti alla Commissione Antimafia. Il cronista pianigiano è imputato per ricettazione, dopo la pubblicazione nel 2010 sul quotidiano in cui lavorava, di una serie di articoli in merito allo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale di Taurianova. E nella difesa a spadatratta di Pantano, i tre parlamentari, Lucrezza Ricchiuti, Davide Mattiello e Donatella Albano, tutti del PD, trovano lo spazio per un duro affondo contro il giornalista Bruno Vespa. Tre la RAI offre palcoscenici di primo ordine, dicono i tre, ai portavoci della mafia come il figlio del boss Riina. In Italia ci sono giornalisti sottoposti al bavaio e alla censura per la sola colpa di aver scritto contro le mafie. Il paragone appunto è con il cronista Agostino Pantano, sotto processo con l'accusa di ricettazione dopo aver scritto un'inchiesta sullo scioglimento del Consiglio Comunale di Taurianova. Nel nostro Paese continuano i parlamentari e paradossale la condizione di un sistema informativo in cui a Bruno Vespa viene concesso di pubblicizzare il libro del figlio del capo dei capi, utilizzando la rete ammiraglia del servizio pubblico, mentre tanti cronisti che fanno il lavoro in trincea, osservano i parlamentari, viene riservata una condizione amarissima. Pantano risponde per la seconda volta in tribunale per la stessa inchiesta giornalistica che risale al 2010. Per di più il cronista è stato prosciolto una prima volta, ma ugualmente la procura di Palmi ha insistito, sostengono nella nota i tre del PD. Adesso Pantano rischia fino a otto anni di carcere solo per aver fatto il suo lavoro, averci informato sulla pervasività dell'andrangheta, aver contribuito alla presa di coscienza dell'opinione pubblica circa i tentacoli dei clan sulla mala politica, ma siamo sicuri, dicono ancora i tre, che lo Stato invece di premiarlo, invece di incoraggiarlo a continuare a scrivere dalla parte della società civile, lo processa e indica la sua condotta come un oltraggio alla legge. Per quanto ci riguarda, si schierano i tre parlamentari del PD, noi sappiamo da che parte stare, dalla parte di quei cittadini e sono tanti che proprio perché indignati dalle scelte editoriali del servizio pubblico, a sostegno del giornalista Pantano stanno firmando una petizione per denunciare l'accanimento giudiziario che subisce e più in generale concludono i tre la richiesta di avere una RAI che non tratta sullo stesso piano le storie dell'antimafia e l'esaltazione della mafia.